Benvenuti all'edicola di SkyTG24, due temi importanti alla giornata che si è appena conclusa che trovate sulle prime pagine dei quotidiani e che andremo a leggere insieme in questa mezz'ora. Da una parte il DDL ZAN con l'ITER che si è fermato ufficialmente al Senato, dall'altra parte la manovra oggi il Consiglio dei Ministri, al centro sempre la questione pensioni. Adesso segnavo anche il mattino di Puglia Basilicata che parla un'intervista al Nobel per l'economia David Card della Lost Generation. Tranne l'Europa del Nord nessuno investe sui giovani che vanno di moda anche nei discorsi di Draghi. Miracolo e grandezza del salario minimo. Il pezzo di Dorella Cianci.